Una notizia che non troverete nei post di Fabrizio Romano su X, seguitissimo, quasi ad ogni post milioni di visualizzazioni oltre alle tantissime interazioni. Un'istituzione del calciomercato e del calcio raccontato dai media e dai giornali, quindi in ambito giornalistico e a livello internazionale, sostenuto soprattutto da tantissimi tifosi stranieri che lo seguono e lo considerano un punto di riferimento per le notizie. Con il suo marchio di fabbrica Here We Go infatti è diventato, ripeto, un punto di riferimento al punto da essere utilizzato come testimonial in alcuni casi anche per l'annuncio ufficiale da parte di alcuni club dell'acquisto di determinati giocatori per determinate operazioni di mercato, che comunque prima di essere ufficiali passano attraverso il racconto di Fabrizio Romano e per molti se non l'ha detto Fabrizio Romano non esiste, se l'ha detto lui allora è vero. Massimo rispetto dunque per Fabrizio Romano e per il merito che ha avuto nel conquistarsi, nel guadagnarsi questa appunto meritata visibilità internazionale. Ma secondo un profilo X norvegese, a proposito di notizie che non troverete tra i post di Fabrizio Romano, esisterebbe un tariffario in virtù del quale alcuni club norvegesi sarebbero stati contattati proprio da un'agenzia per conto di Fabrizio Romano per proporre a pagamento la pubblicizzazione, la promozione di determinati giovani talenti norvegesi. Scrive infatti Kimmo FC, Fabrizio Romano for sale. I migliori club norvegesi sono stati contattati da un'agenzia che rappresenta Romano, offrendosi di promuovere i loro giocatori per mille fino a sei mila sterline con un video personale dello stesso Romano. E c'è lo screenshot del form da compilare per la richiesta dove si può leggere che cosa vuoi che Fabrizio Romano faccia o dica nel video, informazioni generali con la breve descrizione della tua attività, il tono di voce, lo stile che deve utilizzare Fabrizio Romano per realizzare questo video, il nome della compagnia, del sito e poi appunto il tipo di rapidità anche nella consegna, quindi i tempi di consegna del contenuto, quanto velocemente lo vorresti e addirittura lo si può ottenere senza ulteriori costi in sette giorni o entro 24 ore con l'aggiunta di una commissione per un totale di 63 mila corone norvegesi che appunto al cambio si arriva fino a 6 mila sterline secondo questo profilo X che come vedete ha riscosso tantissima visibilità fin quasi a un milione di visualizzazioni perché quando si parla di Fabrizio Romano la visibilità è tantissima ma in questo caso si tratta di una notizia un po' contro di lui che lo mette forse in difficoltà e quindi è sorprendente quanto abbia fatto il giro questa informazione. Nel thread Kimmo FC prosegue dicendo Togersen commentatore di Tips Balladet lavora con i trasferimenti e i suoi lati oscuri da oltre 15 anni e lancia l'allarme. So che Romano è idolatrato là fuori ma devo solo dire che spesso fa il gioco degli agenti e da lì prende le informazioni. Si legge infatti nello screenshot può inviare direttamente a Fabrizio Romano una richiesta da qui e c'è il link richiesta che passerà attraverso direttamente il telefono di Fabrizio e quindi potrà inviare una richiesta un form di richiesta sia per informazioni sui trasferimenti che lui possa condividere e per dettagli per un video con Here We Go e quindi un annuncio ufficiale con l'indicazione del prezzo approssimativo. E ancora un'altra testimonianza di Mehran Amundsen Ansari. Nei miei sette anni nel massimo calcio ho ricevuto tante richieste strane ma mai come questa. Questo deve essere uno dei giornalisti più famosi del mondo è completamente insensato e ricordo che dopo questo incidente ho smesso di seguirlo sui social media. Dice il capo del marketing della società Valerenga Football. Un portale norvegese Idretspolitik aggiunge ha parlato con Fabrizio Romano e gli ha chiesto se usa o ha usato Memmo per vendersi ai club in questo modo e se fa pagare per promuovere i giocatori nei suoi canali social. Non vuole commentare la questione. He does not wish to comment on the matter. Considerazione finale di Kim UFC ricordalo quando vedi voci provenienti da agenti e promotori di alto profilo. Spesso 5-10 post al giorno sullo stesso player. Non è sempre sbagliato ma è alimentato da agenti con un preciso obiettivo. È difficile molto difficile capire quanto c'è di vero in questa notizia quindi se è una notizia ma quello che possiamo dedurre è che forse è il caso di non prendere per oro colato quello che dice Fabrizio Romano e gli altri giornalisti in tema di calciomercato perché è evidente che ci sia anche una commercializzazione delle notizie con qualche influencer a questo punto più che giornalista che potrebbe arrivare a spingersi potrebbe spingersi anche a proporsi come testimonial per determinate campagne pubblicitarie dietro pagamento e quindi diffondere informazioni che poi sono a vantaggio di determinati calciatori dietro compenso sfruttando la propria visibilità presso il pubblico così che la notizia viene fabbricata in funzione dello scopo che si vuole ottenere. Non nasce spontanea. Non c'è un racconto dei fatti. C'è una costruzione dei fatti al fine di raccontarli per guadagnarci. Se queste notizie sono fondate ma si citano più più fonti almeno tre diverse più ci sono anche le schermate che dimostrerebbero questo tipo di pratica commerciale. Come la cosa sia inquadrabile da un punto di vista deontologico e giornalistico è anche interessante da scoprire ma tralasciamolo quello che più dovrebbe interessare gli utenti i tifosi è appunto che bisogna sempre approcciare con il dubbio anche quando c'è un'ufficialità o una quasi ufficialità su operazioni di mercato e in realtà volendo essere anche un po più maliziosi lo si capisce seguendolo Fabrizio Romano come gran parte della sua narrazione sia edulcorata. Fateci caso le fotografie di chiunque di qualsiasi soggetto lui vada a trattare che siano allenatori o calciatori sono quasi sempre fotografie che ritraggono bene il soggetto che non creano mai imbarazzo sono sempre le migliori foto per presentare nel miglior modo possibile la persona di cui si parla e allora è chiaro che più che di giornalismo informazione stiamo parlando di pubblicità. Naturalmente non ci sarebbe nulla di illegale in tutto questo al netto delle corrette dichiarazioni fiscali per qualsiasi compenso che uno va a percepire ma non abbiamo dubbi su questo fronte è più un discorso di correttezza e di rispetto del pubblico io ti racconto un fatto e quindi tu credi a quello che io ti dico perché vado a crearmi una attendibilità e un'affidabilità poi però vai a vedere che una parte o gran parte di quel fatto che ti ho raccontato è edulcorata è costruita finalizzata ad una pubblicità positiva per un determinato calciatore per andare nell'interesse di un determinato procuratore che ci mette i soldi e il tutto è un giro commerciale. Ripeto non sappiamo se questo è vero possiamo immaginare che sia verosimile ognuno poi fa quel che vuole continuare a seguire e fidarsi di Fabrizio Romano smettere di seguirlo smettere di fidarsi o tutte le vie di mezzo tutte le gradazioni possibili ma che si faccia comunque attenzione facciamo sempre tutti attenzione e cerchiamo di capire quanti soldi girano nel calciomercato tra procuratori e calciatori e quindi quanto può essere poi davvero attendibile il racconto del calciomercato e quanto invece c'è di manipolazione commerciale.